ma lascio iniziato? si va bene ciao a tutti amici e amiche mie che siete i più belli del mondo oggi vi voglio far vedere le mie fantastiche fantastici anzi perché fantastiche sono tutte femmine sì veramente sono tutte femmine tranne quella di My Little Pony però vabbè e oggi vi voglio far vedere i miei costume LPS e My Little Pony ok e allora nel triste momento dove mi muore Rachel e Rachel è morta nel frattempo comunque ma a parte cavolate varie oh il cellulare sta morendo anche lui devo mettermi in questa posizione se no il video mi scemalissimo chiud nel frattempo si vede lo specchio dietro belle le mie robe non guardate la mia foto comunque in poiché parole bellissimi minui o accessori tranne questo collare che fa veramente cagare comunque passiamo ai costume che è meglio vada iniziamo con quelli non guardate la mia foto e i 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